Buongiorno, sono Gianpaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento questa splendida Suzuki Jimny 1.3 benzina 4x4, immatricolata nell'anno 2018 con soli 23.000 km percorsi. Si tratta di una versione top di gamma, infatti abbiamo vernice metallizzata, ruote in lega, mancorrenti sul tetto, vetri posteriori oscurati e interni in pelle. Questa vettura è praticamente in tonsa, non è più nemmeno disponibile in ordinazione. Vi mostro gli interni che sono veramente perfetti, giustificati dai 23.000 km. Il cliente ha aggiunto il bracciolo che non è previsto su questo veicolo. Ecco, 23.000 km, radio CD MP3 con Bluetooth e radio DAB. Abbiamo l'aria condizionata, la possibilità di inserire le quattro ruote motrici o il riduttore, il cambio naturalmente meccanico 5 rapporti e i vetri elettrici per le due portiere anteriori. Il sedile posteriore è sdoppiato. Questo veicolo è disponibile in pronta consegna, guidabile anche da neopatentati, viene venduto con garanzia di 12 mesi. Vi aspetto Gusago presso il nostro autosalone Pasolini Auto per vederlo, provarlo ed eventualmente acquistarlo. Grazie.